Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gassiub Drums Nel video di oggi nuova reaction con questa felpa non troppo sobria Ma vabbè, l'inverno è cominciato quindi mi dovevo coprire Allora, nuova reaction, che cosa vuol dire? Per chi non lo sapesse, per chi magari vede questo video, questa tipologia di video, questo format per la prima volta Le reaction sono video in cui voi mi mandate dei video In cui vi fate vedere i vostri bunker, le vostre salette, le vostre batterie, i vostri urlanti, i piatti Tutto quello che avete all'interno dei vostri posti dove suonate e io vado a giudicare quello che avete Quindi chiunque mi può mandare questo video, basta che prenda il cellulare che io intasca il cellulare Faccia un video possibilmente in orizzontale, se riuscite solo in verticale Vabbè, pazienza, poi me lo aggiusti in montaggio, ma se riuscite mi raccomando in orizzontale Poi dopo aver fatto il video andate nel link che trovate qui sotto in descrizione di questo video Dove vi porta a una cartella Dropbox, basta che inseriate il video che avete appena fatto All'interno di quella cartella che trovate cliccando il link Quindi oltre questo, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando iscrivetevi Che così cresciamo sempre di più e io ho possibilità di fare dei video sempre più di qualità E soprattutto fare anche sempre più video E oltre questo, in descrizione trovate anche il mio sito Gastri of Drums Dove ci sono tutti i miei corsi, se vi piace il mio modo di spiegare, eccetera Fatevi un giro e guardate tutti i corsi che ci sono, magari qualcuno potrebbe interessarvi E basta, prendo fiato, mando la sigla e poi partiamo col primo vostro video Come sempre per vedere i video devo mettermi le cuffie Se no non vi sento, metto in muto le casse perché altrimenti fanno casino Voglio che si senta solo in cuffia Il primo è Pietro Saffiotti E che dire, niente Vai Pietro e facci vedere la tua batteria Il tuo studio, il tuo bunker, le tue piatte, tutto quanto Ciao Luca, io sono Pietro Saffiotti da Genova Ti faccio vedere un po' il mio set Siccome è abbastanza corposo Perché è un set che io mi sono creato negli anni per andare a fare, diciamo, metal Ma vuole essere un set con cui ci si può suonare anche eventualmente rock o funky Non è solo prettamente per fare metal Quindi ho montato un sacco di cose Adesso ti farò vedere un po' tutto Allora partiamo subito dalla batteria per evitare di perdere troppo tempo Questa è una Mapex Armory Perfetto Finitura red cherry mi pare Mapex fa delle fritture pazzesche A me è piaciuto il colore Quindi l'ho acquistata immediatamente Quando l'ho vista in esposizione Mapex Armory poi battete pazzesca I rullanti Allora, i rullanti Ok, due rullanti Qua sulla destra ne monto due Uno che è il Tomahawk in acciaio di serie Che viene venduto con la Mapex E' accordato molto alto Ok, steng Quasi da funky, diciamo E poi c'è il secondo Che è il classico rullante Che è il panettone Bello quello Che è un rame Tra l'altro è uno steel drum Fatto da Marco Stella Certo Marco che salutiamo Assolutamente sì Rullanti pazzeschi Un artigiano incredibile Fa questi rullanti qua Che spaccano veramente Sì, bellissimi E' un rame Un 14x6,5 E suona veramente Molto 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 bene Ok Monto Qui una G1 Della Evans Per le monostrato E qui invece Una Ambassador Sempre monostrato Ma a Remo quindi Un Ambassador della Remo Ok Poi vabbè ho i cerchi Della Evans Per levare un po' di armoniche Fastidiose E qualche moon gel Che è molto così Ogni tanto Le pelli invece Dei tom Sono delle EC2S Si vede lì Le misure dei tom Sono 10x8 12x10 14x14 16x16 Ok Quindi i due timpani Sono quadrati Monto i due tom Invertiti Perché Tanto scusatemi Che c'è riflesso Ma Nessun problema Non si vedrebbe nulla Purtroppo Allora Li monto invertiti Dicevo Perché Mi piace di più Il suono del 12 E Mi capita molto più di frequente Di partire nei fill O di utilizzare nei fill Il 12 Rispetto al 10 Ok Però Essendo che più di frequente Colpisco il 12 Ho deciso di montare A sinistra il 12 Ci sta Questa è una cosa Che si fa In realtà Spesso Non la si vede spesso Ma ogni tanto si fa Perché Tanti Utilizzano Più il 12 Appunto Come diceva lui Ma Gli piace l'idea Di rullante Tom Timpano Timpano Quindi Rullante Un tom E due timpani Ma Mettendo il 10 A destra Non rompe le scatole Quindi Possiamo suonare Tranquillamente Come se avessimo Un tom E due timpani Ma all'occorrenza Abbiamo anche il tom In più Quindi è una cosa Molto particolare Ma in realtà Veramente Molto funzionale E poi Montando il 10 A destra Mi consente Di avere Il ride Un po' più Vicino a me Perché è più piccolo il 10 E io siccome C'ho il braccino Un po' corto Ho problemi Se no Ad arrivare Fin laggiù I piatti sono Un Bysons Un Crash Bysons 20 Dark Extra thin Sì Ok A cui ho aggiunto Questa collanina qua Di metallo Per avere un po' Di effettini In coda Ok Un crash Da 17 T-Symbols Ok Un crash ride Da 20 Sempre T-Symbols Di quelli Doppia finitura Diciamo Un po' La parte più Interna È grezza La parte esterna È più Diciamo lavorata Fanno molto bene È un marchio Che in Italia Diciamo È poco conosciuto Ma io Ci ho Diciamo Creduto Subito E non sono rimasto Per nulla dell'uso Non li conosco Questo invece È Sempre da T-Symbols Un 19 Che come si può Mi sa notare È devastato Non solo lì Ma anche in altri punti Per esempio qua Sì ne avevo visto Anche un altro vicino Alla campana Questo qui ha preso Un bel po' di botte Perché è il primo Che ho acquistato E ormai lo uso Solo per accompagnare Così almeno finisco Di distruggerlo Ok Ho invece un Un China Da 18 Della HX Serie HX Della Sabian Bello Molto Molto potente Questo qua Un gran bel suono Mi piace molto Ritengo che I China Della Sabian Siano i migliori Per I miei gusti Diciamo A me piacciono Anche molto Gli orienti Un Ride da 21 Della T-Symbols Su cui poi ho montato Un bel Della Ufip Da 8 Ok Molto belli Questi due Poi ho Questo Charleston Che non ha il controllo remoto A destra Che è un bel padellone Da 15 Ok Quindi lo usi Come Charleston A sinistra Da 14 Questo arriva direttamente Dagli anni 60 Lo ereditato da mio zio Dall'altro zio Che suonava In quegli anni Ho due Splash Uno della Ufip Da 7 E uno da 10 Della T-Symbols Sei curioso di sentire E poi ho Questo stack Che diciamo Ho ereditato dal mio maestro Lui aveva L'aveva Rotti entrambi I due piatti Di cui ha composto Un China da 19 E un China da 19 Un crash da 19 Scusatemi Che poi Ha ceduto a me E io sto terminando Il lavoro di demolizione Sotto al doppio pedale Mapex Armory Se mette fuoco Penso che Ok no ma si vede Si vede No mi sa che Ce lo teniamo così Purtroppo Vai tranquillo Vabbè Mi ci trovo bene Fa il suo Viaggia E non badate a quello Che c'è nella cassa Mi piace molto Stoppata C'è un po' di tutto Vabbè poi il genere Che fai Niente Questo è il mio set Questa è la saletta Dove proviamo Che per essere a Genova Generosa di spazi Perché noi qua siamo Tutti attaccati Certo E niente Un saluto da Genova Se il caso voleste cercarmi Su Instagram Mi trovate come IlSaffio04 Ok Perfetto E la mia band Sono Yark Fallen Un saluto Ottimo Grazie Grazie mille Pietro Molto bella la batteria Devo dire che L'Armory È una batteria Molto 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 Carina Siamo sulle Sulla fascia di prezzo Medio economica Perché comunque È qualcosa in più Dei mille Quindi comunque Non siamo economico Ma non siamo neanche Troppo costoso Molto bella Come al solito Io quando sento Mapex Ormai dico Porca miseria Bellissimi quei set Con un prezzo Accettabile Perché c'è l'Armory Che appunto È in fascia medio economica Se si va più giù Sulla fascia economica C'è la Mars Che comunque Anche lì È una batteria pazzesca Armory Veramente Ottima E soprattutto Con delle finiture Sempre molto 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 belle I piatti Questi T-Simbals Non li ho mai sentiti Mi piacerebbe sentire Le sei possibilità Di registrare Come dico ogni tanto Facceli anche sentire Magari spiegaci ancora qualcosa Di quei piatti Facceli anche sentire Magari con un microfono Se hai possibilità appunto Di registrare E fatelo anche voi Se mi volete mandare un video Se mi avete già mandato video In cui non suonavate Eccetera Fatemi sentire anche queste batterie Tranquillamente E con questo Andiamo all'altra persona Che si chiama Marco Santi E quindi video più breve Questo qua quindi Sarà molto più veloce Andiamo Vai Marco Allora ciao Ciao Come vedi sono leggermente sudato Perché ho appena finito di suonare Allora dico Approfitto di fare Il video Della sarà prove Professionale che ho E sono venuti con l'aiuta E Weckle Che li conosco personalmente Poi più tardi È arrivato anche Samuel Phillips per i microfoni Ma poi ne parliamo un'altra volta Allora No no voglio sapere Eccoci qua Aspettate un attimo Non ho capito Devo rivederlo Il video Della sarà prove Professionale che ho Sono venuti con l'aiuta E Weckle Che li conosco personalmente Poi più tardi È arrivato anche Samu Phillips per i microfoni Ma poi ne parliamo un'altra volta Allora Io sono Marco Voglio parlare un'altra volta Costruita dal super Iper Mostro Mauro Gerardi Ok Allora Eccoci qua Abbiamo Non so se si vede bene Ma farò il possibile Certo certo Vai tranquillo La batteria Partiamo dal rullante Ok Acrolite È bello 15x No Sì 14x5.5 12 16x2 La cassa Che è qua Ok Li monti così Io uso Questo qui che mi piace tantissimo Probabilmente sono in traditional Il dry L'extra dry Insomma della Minol Ok Il dark Iper Super figo Bellissimi quelli Un po' Set strano Un po' ibrido Insomma Questo qua Crash ride Che mi fa impazzire Lui Quello che c'è È il Ah Byzons Non so neanche Da 19 Da 18 Non mi ricordo Su questo sono un po' Ignorante Ma è l'extra dry Dicep della Minol Uno splash Un Come si chiama Questi qui Uno stack Poi dimenticavo Qui c'è anche il mini Ah il mini Charleston Insomma quello di Di Benny Grabber Se no mi vengono i nomi Hai batte pazienza Ho molto caldo No problem Qua dentro Ok D'inverno è molto caldo È molto freddo L'estate è molto caldo Qui c'ho la postazione Chiamiamola così Col computer Ok perfetto Con la mia scheda audio classica Le cuffie attaccate E le cuffie per non sentire Quando invece non devo registrare Non devo suonare sulle basi Ok E che altro dire Non so se si capisce Un po' in che razza di spazio sono Però ti dico C'è tutto Quello che serve Comunque spazio piccolo Un po' faticente Un po' horror Però dai Ci sta ci sta Mi diverto Mi piace molto Basta che sia funzionale Anche perché non si può fare diversamente Ciao ciao Grazie Grazie mille a te Grazie mille a te Allora In realtà io vorrei capire La questione dello studio Di cui ha parlato All'inizio del video Perché Ha detto Non sono nel mega studio Dove sono venuti con l'aiuta Wacol Simon Phillips Eccetera Ma Marco facci un video In quello studio lì Dove Dove sono venuti anche loro E vogliono capire Che studio è Come è fatto Eccetera Perché deve essere uno studio Fighissimo Quindi Aspettiamo anche quel video lì Intanto qua comunque Ti sei creato Lo studio Come hai potuto Ovviamente Con lo spazio Anche che avevi Quindi Ci sta Ci sta assolutamente Anche perché poi in realtà Il set che hai È molto bello Sia come fusti Sia come piatti Se non sbaglio Non ha detto Pedali Che cosa usa Però Hai la possibilità di registrare Hai la possibilità di suonare Tranquillamente sulle basi Quindi in realtà Hai tutto quello che Che ti serve Molto bene Adesso andiamo Avanti Con Corrado Giunta Vai Corrado Ciao Luca Sono Corrado Ciao Piacere Ti presento Il mio bunker Il mio piccolo bunker Fatto da me 2021 Ok Circa 2020 Tra il 2020 Appunto 2021 Ok Sistemato Una piccola stanza Che avevo giù Abito in una villettina E quindi Il locale Caldaia Che adesso si vede Il locale Caldaia Liberato un po' di spazio Qua c'è ancora Un po' di roba Il locale caldaia Parigi E questo qua Praticamente Me lo sono realizzato io Anche il soffitto Mi cade il telefono No Polistirolo Dei 5 centimetri Ok Ventilaturone Che Si schiatta E poi Vedo che è attrezzato bene Un paio di cassettine Della Martin Un mixerino piccolo Con l'uscita USB Per registrare Ok Che ogni tanto Registra anche qualcosa qua A casa Trasmettitore Per linear Ok Beh si è attrezzato Cavoli Hai fatto bene Questo studio Bello Un finalino Ok Meringer Poi un po' di piatti Questo qua È una spirale Ma io voglio vederla Ma io voglio vederla Fatta a mano Ah ok Pensavo fosse quello Quello a spirale Si vede anche l'ematoma del mio prelivo Guarda Un altro piattino rotto Che ho tagliato Ma non mi piace così E quindi farò degli stack Ok Dedica Orasio El Negro Erlandez Grande batterista Percussionista Cantare Suonare Contare L'aeroporto Da quando andavo a scuola Dal mio amico Corrado Anche lui Dal mio maestro Ave chitarra Giambè E qua c'è la mia Eccola qua Eccola qua Verde Una Mapex Il mio muletto Diciamo Perché poi io Quando la uso Per suonare fuori la batteria Suono con una Gianara In acrilico Ah ok Dell'amico Gabriele Beatrice Che salutiamo Gabriele Ciao Gabriele Che non è male Con cassa da 24 Rullante da 14 12x6 Se non sbaglio Ok Quindi abbastanza Profondino Sempre un tom da 12 T e 2 timpani 14-16 Sono tutti power Questa invece Una cassa Grande Da 20 Classica E una serie M Una Mapex Ok Mi sa da 22 Che ho da un po' di anni Non è la mia Prima batteria Scusate Mi perdo ogni tanto Perché penso Alle cose che dice prima Qual era la batteria Mapex Di 14-16 Questa invece Una cassa Da 20 Classica Una serie M Una Mapex Ah serie M Che ho da un po' di anni Bello Anche il colore Che carino Perché la mia Prima batteria È finita In discarica Era marcia Praticamente Come vedi Piatti Ufip Ufip Uso quasi tutto Natural E' bellissime Belli Crashettino Da 15 Bionic Provo provati Qualche tempo fa Natural Mi sono piaci Un sacco Appunto Poi c'ho qualche piattino Del mio amico Thomas Testa Ok Che lui li fa Stacchettino Della New Drum Salutiamo anche Domenico Questa Tra l'altro E' uno dei primi Pure piegato Arruginito Me lo tengo stretto Perché E' uno dei primi Che produceva Ok Si si Ha fatto un po' Di prototipi Eccetera Gingilli sul Charlie Che sono comodi Certo Chiaro Bene Molto carino Abbiamo visti Mi piacciono Perché comunque A parte pop Io faccio anche blues Folk E hanno un bel suono Certo C'è calda Poi Asta del Charlie Questa è una MAPEX Sempre Ma di solito uso Una Iron Cobra Ok Quindi Tama Della Tama Live Ok Come la ragazza Come la ragazza Del video Che hai già mandato Ok Io ho quasi tutto doppio Perché suona in taverna E dopo un po' di anni Fare su e giù dalle scale Pesa Ho 53 anni Quindi Ci credo Si si Ma lo so Anch'io Che ne ho Solo a metterla in taverna Io ho quasi tutto doppio Tranne i piatti Però di batteria Questa è sempre ferma qua Anche lo sgabellino Questo è fermo qua Perché poi E' comodo Comodo Questa cosa Uno sgabellino bello Con lo schienale Pelli sono della Code Ah ok Si Quindi sempre Yanara Poi abbiamo Pedale Iron Cobra Con battente Sempre della New Drum Credo che sia olivo Questo qua Con la scritta Pure personalizzata Si Molto belli Quelli Comunque New Drum Lavoro davvero bene Bacchettine Bacchette Io uso le Evo 5A Personalizzate Sempre dall'amico Paolo Certo Paolo Che salutiamo Mi vuole bene Ma Molto bravo Poi vabbè Cuffette Della Shure Ricevitore Poi Sopra Ci metto Questo vecchio Paio di cuffie Della Vic First Si 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 Le solite Si è rotto Quindi staccato il filo Svuotate no Sono rimaste così Però le uso per insonorizzare Certo Un po' di cose fine Cucchiai Che vabbè Quando suona in acustico Mi servono Per fare un po' di casino Ma che figo Ma che figo Ok Eh ci sta E quindi Ci sta E poi Un altro Eccolo lì Gingillino Fatto dal mio amico Thomas Che si mette sul rullante E fa tipo Poclex Diciamo E questo Praticamente È il mio Booker Figo Bravo Bravo Per essere Che l'ho costruito In garage C'ho ancora Tantissima roba C'ho sull'altra batteria C'ho un timpano Che uso come cassa Un timpano da 16 Che uso come cassa Quando sono in acustico La mia valigia Perché in acustico Col Con il mio progetto Folk Il cash project Uso la valigia A posto della cassa Quindi una valigia Di cartone Microfonata dentro Che mi sono Costruito io L'aggeggino Per attaccare il microfono Quindi ho già Tutto microfonato Washboard Kaon E percussioni varie Di tutto e di più Quindi Bravo Tanta roba Poi ho testemobili Perché negli anni Mi hanno regalato Soprattutto il mio amico Pino Che saluto Ciao Pino Salutiamo anche Pino Dato che abbiamo salutato tutti Che è il proprietario Dello studio Dove suono di solito Fonico Bravissimo Che adesso è in tournée Con un po' di artisti italiani In giro per l'Italia E quindi ogni tanto Mi porta a casa un po' di robe Quindi ho casse Varie casse Teste mobili Macchina del fumo Un po' di cose Così si è attrezzato Per qualsiasi Da fare in giro Situazione Vi saluto Grazie per l'attenzione Seguitemi sul canale Sui vari canali social Corrado Giunta Bravo Altish Project Ciao Ciao Corrado Grazie mille Molto simpatico Corrado Devo dire A sto punto Dato che hai un'altra batteria E hai altre batterie E altre cose Quando magari suoni in giro Sei nei locali Hai le altre batterie montate Oppure hai la batteria Con la cassa Fatta a valigia Cioè no La valigia che ti fa da cassa Eccetera Quando ci sono queste cose qua Mandaceli I video Facci un video In cui ci spieghi Come funziona E tutto quanto Ci fai vedere L'altra tua attrezzatura Quindi Veramente carino Questo video Molto simpatico Corrado Quindi ragazzi Grazie mille Voglio ringraziare Corrado assolutamente Voglio ringraziare Marco E Pietro Per avermi mandato Questi video E fatemi sapere Qui sotto in descrizione Se anche voi Volete un video Live Da Da Corrado E soprattutto Se volete mandarmi Dei video Sia live Sia in cui Magari Registrate la vostra batteria E mi spiegate Come la registrate Che potrebbe Non ve lo chiedo mai Ma potrebbe essere interessante Sia se volete Mandarmi dei video Normali Tra virgolette Nel vostro bunker Qui sotto In descrizione Avete il link Con la cartella Dropbox Dove potete Caricarli Con questo Ragazzi Finisco qua il video Vi ricordo Se vi va Di iscrivervi al canale Così Se siamo Di più Riusciamo a fare Contenuti Migliori E più contenuti Anche Qui sotto In descrizione Trovate anche Il link Al sito Castillo Dove ci sono Tutti i miei corsi E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie.